Bene, non è la prima volta che vengo a Giffoni, sono già venuto più o meno 15 anni fa, per cui devo dire che è impressionante vedere dopo 15 anni la trasformazione, nel senso io quando sono venuto 15 anni fa c'era un pezzetto di quello che c'è adesso, adesso invece è impressionante. Mi fai una domanda che prevederebbe una mia lucidità eccessiva, nel senso mi ricordo un grande entusiasmo, una grande partecipazione che ho ritrovato anche oggi insomma, probabilmente i ragazzi che ho incontrato 15 anni fa erano più piccoli, questi erano più grandi, ma resta il fatto che questo è un Giffoni, è qualcosa di unico ed è la più grande per me manifestazione cinematografica con lo scopo di avvicinare i giovani al cinema e di creare un punto di unione e quindi questo è molto bello e credo che quindi sia giusto il successo che abbia e deve avere lunga vita. No, è stato divertente, penso per i ragazzi è anche stato abbastanza, forse anche un po' scioccante da un certo punto di vista, perché poi io purtroppo ormai tendo a parlare chiaro, per cui non descrivo il dorato mondo del cinema più di quel che è necessario, insomma. Il cinema è fare l'attore, fare il regista, comunque voler investire la propria vita in questo ambito è una scelta molto complicata, molto facile quando si ha 20 anni, quando si ha 30 già meno e dopo comincia a diventare una scelta molto complicata, perché è un mestiere molto competitivo, è un ambito molto competitivo nel quale se non ti strutturi internamente in un certo modo, soprattutto se scegli di fare i mestieri artistici, No, secondo me c'è un'illusione di distanza, il cinema non è distante da questa generazione, è ovvio che questa è una generazione che non ha nulla a che spartire con noi, con noi intendo con quelli nati nel Novecento, per cui è evidente che anche noi facciamo fatica a capire loro, ma io vedo che per loro il cinema è qualcosa ancora di molto importante, Però dobbiamo pensare che nell'arco degli ultimi 30 anni il numero di produzioni audiovisive nel mondo si è moltiplicato esponenzialmente anno dopo anno, Cioè basti soltanto pensare la quantità infinita di titoli che ti può offrire una piattaforma come Netflix, che è la televisione per i giovani d'oggi, per dire che il cinema è ultra presente, molto più di prima probabilmente, e che non è il cinema nostro, è il cinema loro, e quindi magari è un cinema più leggero, è un cinema più Twilight e meno qualcos'altro, non so come dire, Però da questo punto di vista io vedo e sento che non c'è più la sala, la sala per loro non è più un elemento, soprattutto nelle grandi città, in provincia non lo so perché non la vivo la provincia, ma vedendo i numeri neanche troppo in provincia, la sala no, la sala non è più per loro quello che era per noi, cioè oggi i film sono rimasti molto importanti, il cinema come forma audiovisiva, il film è comunque, resta uno degli strumenti più importanti, loro guardano una quantità di titoli enorme, molto più di quanto facevamo noi, ma noi andavamo al cinema, loro se li guardano sul telefono, sull'orologio, sul computer, sulla televisione, e qualche volta anche in sala. Ma probabilmente, la riflessione non è così, nel senso un po' complicata, perché c'è una riflessione strutturale e istituzionale che è legata alla qualità dell'esercizio. È ovvio che se cominciamo a costruire cinema fatti con un concetto moderno e diverso, probabilmente al cinema ce li riportiamo, se cominciamo a ritrovare il cinema sotto casa, probabilmente al cinema ci vanno, però è ovvio che se io per andare al cinema devo prendere tre autobus e andare fuori dal raccordo anulare parlando di Roma, beh, comincia a diventare un po' un'avventura andare al cinema, non è così facile. E quindi dovremmo ripensare proprio il discorso delle sale, se vogliamo che le sale vengano rilanciate. Siccome è difficile da fare questo discorso, è ovvio che dobbiamo cominciare a concepire il fatto che la sala non è più il principale, ma questa è una roba vecchia, insomma, non è più il principale mezzo di fruzione, ma è uno dei mezzi e sicuramente è uno di quei mezzi che ha un grande elemento che gli altri non hanno e che è la condivisione. Loro oggi non condividono, hanno piccoli gruppi, ma è difficile per loro. La sala invece è quella roba dove tu vai in un cinema con altre 200 persone, guardi lo stesso film e quindi respiri un po' anche gli umori, le reazioni, i sentimenti, che tutti quelli che sono intorno a te vivono in quel momento. Ed è un po' questa la grande differenza. Mi sarebbe piaciuto, soprattutto nel momento in cui quello che a me piace è che, vedendo anche, sono quasi tutti i ragazzi che vengono dalla provincia, in qualche modo, no? E quindi è bello che esista una manifestazione che dà la possibilità a una selezione di questi ragazzi di avere un contatto diretto con cui questo mestiere lo fa. Perché è attraverso questo genere di esperienze che loro si possono convincere se veramente può essere la loro strada o se può rimanere una bellissima passione, un bellissimo hobby. Ma sai, le domande che mi hanno fatto oggi sono tutte domande che potevano rientrare nelle mie curiosità, insomma. Io ho trovato un gruppo di ragazzi molto lucidi, che hanno fatto domande molto pertinenti, esprimendo posizioni e facendo proprio domande. Cioè, sai, spesso vai a questi incontri in cui non c'è la domanda, c'è l'affermazione della propria idea. Quindi è prendere la parola per dire a te come la pensano loro. Invece no, qua mi hanno fatto proprio delle domande. Cioè, c'era il punto interrogativo alla fine. E quindi questo è sempre molto bello perché ti permette comunque di non dover creare un dibattito, ma di rispondere e di esprimere e di condividere. Perché poi fondamentalmente fare cinema, qualunque mestiere tu faccia, il 95% delle tue capacità sono basate rispetto alla tua esperienza. Non è un mestiere, sai, devi studiare. Sì, puoi anche studiare, ma un conto è fare il cardiochirurgo, l'architetto, l'ingegnere. Un conto è fare cinema. E quindi è la tua esperienza quella che devi farti e poi devi avere il coraggio di condividere. Carattere. Il carattere vince sul talento. In quest'ambito il carattere spesso vince sul talento. Tu puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non hai il carattere, il talento te lo dai nei denti. Puoi non avere nessun talento, ma se hai un carattere che spacca alla fine pure senza talento, arriverai. Io saluto Giffoni, che è una delle più belle esperienze cinematografiche che ci siano in Italia e nel mondo. Ed è un luogo che avvicina i giovani al cinema e che avvicina i giovani alla sala cinematografica perché poi la bellezza di questo festival è che tutti gli incontri, tutte le proiezioni si svolgono in sale cinematografiche che hanno questo tipo di architettura. E quindi viva Giffoni!